La Cina sembra non riuscire a venire fuori da una situazione tutt'altro che facile, un mercato azionario che da ormai diversi anni è in rosso e il governo che continua a dar problemi alle aziende, specialmente big tech. Nonostante ciò, grandissimi investitori come Michael Berry, il protagonista del film The Big Short, rimangono ottimisti per il lungo periodo, mantenendosi posizioni attive nel mercato del dragone. Se invece andiamo a vedere le opinioni di grossi colossi bancari come Goldman Sachs o Bank of America, beh, non possiamo dire lo stesso. Queste si sono espresse in maniera molto pessimistica anche per i prossimi trimestri, segno che la fiducia degli investitori è ormai al minimo storico nei confronti di questo mercato azionario, difficile da comprendere e con molte peculiarità. Oltre a questo, ragazzi, nel video di oggi andremo nel dettaglio di alcuni dati interessanti usciti in questa settimana sempre in merito alla Cina e apriremo infine un articolo che vede finalmente la luce in fondo al tunnel ed un possibile assestamento dell'economia cinese grazie agli stimoli proposti dal governo e da Xi Jinping. Quindi, ragazzi, mi raccomando, mettetevi comodi, lasciate un bel like al video per aiutarci a far crescere questa community di appassionati del mondo finance. Detto questo, partiamo subito da uno degli investitori più importanti, Michael Berry, che proprio all'interno dell'ultimo modulo 13F della sua società, Shion Asset Management, ha dichiarato di aver acquistato un consistente numero di azioni Alibaba nel secondo trimestre 24. Si parla di una partecipazione dal valore di 11.2 milioni di dollari nella società. Questo investimento rende Alibaba la posizione più rilevante nel portafoglio di Berry, che include anche altri titoli tecnologici cinesi come Baidu e JD.com. Come si nota dal modulo, ad oggi la posizione in Baba è decisamente rilevante, il 21.2% del portafoglio totale. Ma cosa vede Michael Berry in Cina per i prossimi anni? Beh, dal punto di vista macro i dati sono contrastanti. Il calo dei dati PMI a livello nazionale e il peggioramento del settore immobiliare indicano che i problemi economici della Cina sono ben lontani dall'essere risolti. Se guardiamo per esempio gli ultimi dati sul PMI, nel mese di agosto si è attestato per la quarta volta di fila al di sotto dei 50 punti, segnale che indica che il settore sta subendo un rallentamento, con una riduzione della produzione, degli ordini, dell'occupazione e di altre variabili chiave. La scorsa settimana i dati sull'inflazione sono stati inferiori alle attese, 0.4% nel mese di agosto contro un mezzo punto percentuale previsto. Simbolo che l'economia del dragone sta facendo ancora fatica a far ripartire i consumi, con una diminuzione dei prezzi dei trasporti, dei beni per la casa e degli affitti. Tuttavia ci sono stati anche segnali positivi per l'economia. L'attività manufatturiera ha registrato una lieve crescita ad agosto, con il PMI Kaixin del settore manufatturiero che ha aumentato a 50.4%. Voi direte che roba è? Beh, per intenderci ragazzi il PMI Standard è pubblicato dal National Bureau of Statistics, l'NBS, in collaborazione con la China Federation of Logisting and Purchasing, la CFLP. Raccoglie dati prevalentemente dalle grandi imprese statali e dalle aziende pubbliche, quindi tende a riflettere più fedelmente l'andamento delle grandi industrie e delle imprese a partecipazione statale. Il PMI Kaixin è elaborato da Kaixin Media & Market, ora parte di SP Global. Si concentra su piccole e medie imprese private, che rappresentano un segmento diverso rispetto a quello coperto dal PMI ufficiale. Questo indice è spesso visto come un indicatore della domanda interna e delle dinamiche del settore privato. A breve vedremo anche i quattro punti che spaventano aziende come Goldman Sachs dall'investire in Cina, ma prima vediamo un altro dato importante da analizzare, le vendite al dettaglio. Ad agosto in Cina sono aumentate del 2.1% rispetto all'anno precedente, quindi sono cresciute meno velocemente rispetto a luglio, dove il dato era 2.7%. Questo risultato è stato inferiore alle aspettative del mercato, che prevedevano un più 2.5%. Il calo è stato influenzato da condizioni meteorologiche estreme, come ondate di caldo e forti piogge, che hanno ridotto le vendite in settori come la cura personale, i cosmetici, l'abbigliamento e le automobili. Questi cali sono stati controbilanciati da aumenti in settori come quello alimentare o dagli elettrodomestici. E se andiamo a vedere la crescita complessiva, da gennaio ad agosto, le vendite al dettaglio sono cresciute del 3.9%. Passiamo alle opinioni di grandi colossi come Goldman Sachs o Bank of America. E qui la situazione cambia. Sono quattro i punti che allontanano sempre di più questi grandi investitori istituzionali dal mercato Cina. Il primo è una domanda debole. La Cina sta vivendo un rallentamento della domanda interna, che si riflette in una minore richiesta di materie prime come il rame, utilizzato ampiamente nell'industria e nelle infrastrutture. La diminuzione della domanda cinese è un segnale di rallentamento economico. Questo perché il dragone, dovete sapere, è uno dei maggiori consumatori di materie prime a livello globale. Punto numero 2. Il mercato immobiliare, di cui abbiamo già ampiamente parlato negli scorsi video, un pilastro dell'economia, sta attraversando una crisi che è prolungata, con molte grandi imprese immobiliari in difficoltà. Ciò ha ridotto gli investimenti nel settore e di conseguenza influisce negativamente sulla crescita complessiva. È un driver per l'economia. Terzo, le previsioni di crescita per il PIL cinese sono state riviste a ribasso, con la Bank of America che prevede un'espansione del 4.8%, una cifra inferiore rispetto alle aspettative precedenti. Quindi l'economia crescerà, ma più lentamente. Infine, le tensioni commerciali e geopolitiche, soprattutto con gli Stati Uniti, continuano a creare una certa incertezza per le imprese cinesi e internazionali. Questo influisce sulla fiducia degli investitori e può avere un impatto negativo sugli scambi globali. E a proposito di scambi, andiamo ad aprire un report interessante di KPMG, proprio in merito alle esportazioni cinesi. Nel primo trimestre del 2024, le esportazioni cinesi sono aumentate del 3.6% su base annua, con una crescita particolarmente robusta del 5.8% nel secondo trimestre, superando anche qui le aspettative. Ma dove sta crescendo la Cina? Beh, Europa e Africa hanno registrato un ritmo di crescita in termini di esportazione più rapido rispetto al tasso medio complessivo dell'export. L'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, che comprende a paesi come l'Indonesia, le Filippine, la Thailandia, è rimasto il principale partner commerciale della Cina, con esportazioni per 285 miliardi di dollari solo nel primo semestre del 2024, più 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, grazie alla ripresa dell'economia americana, le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono aumentate dall'1.5% nel primo trimestre, recuperando rispetto al quasi meno 18% dell'anno scorso. Però le elezioni americane sono sempre più vicine. E questa è una bella variabile, ragazzi. Se il risultato dovesse essere Donald Trump come vincitore, beh, la Cina dovrà fare i conti con un peggioramento probabile dei dazi. Si parla di oltre 300 miliardi di dollari sulle importazioni cinesi, in cui verrà applicata una tassa parecchio pesante. Guardate nel grafico i prodotti più impattati. Le auto elettriche cinesi potrebbero dover affrontare costi veramente molto alti per entrare nel paese, allo stesso modo anche per i semiconduttori. L'obiettivo è quello di proteggere le aziende statunitensi dalla concorrenza di colossi come BYD e Taiwan Semiconductor, con una politica più improntata sulla crescita delle aziende americane a scapito di quelle cinesi. Questo ovviamente potrebbe generare una controrisposta cinese di medesima portata, con una conseguente ripresa di una guerra commerciale che sembra non avere fine. Insomma, la Cina dovrà affrontare diverse sfide, nonostante l'economia cinese sembra essersi assestata e dovrà farlo per raggiungere gli obiettivi fissati da Xi Jinping, in cui serviranno dei nuovi stimoli da parte del governo. Nelle ultime settimane le principali testate mondiali, come Bloomberg, hanno parlato di ridurre l'enfasi sul 5% di crescita del pil cinese, anche se Xi sembra non voler discostarsi in alcun modo da questo target. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, vogliamo sapere anche la vostra opinione nei commenti, cerchiamo di tenervi sempre aggiornati sulla Cina, ma fateci sapere anche alla luce degli ultimi dati come vedete lo sviluppo del mercato azionario cinese, anche considerando il fatto che Donald Trump potrebbe davvero vincere le elezioni. Noi leggiamo sempre volentieri i commenti, vi ringraziamo per l'attenzione fino adesso e ci vediamo alla prossima, sempre qui su Ingeneri in Borsa. Ciao a tutti!